Musica 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 ...con il risparmio energetico, ora della terra o Art Tower, evento targato WWF, nato per mobilitare cittadini ed istituzioni contro il cambiamento climatico. Anche quest'anno l'Ore della Terra lascerà al buio monumenti, luoghi, simbolo, sede istituzionali, uffici, imprese, abitazioni private e tutto. E a Cava dei Tirreni, Sindaco? A Cava dei Tirreni il 29 marzo dalle 20.30 alle 21.30 non sarà illuminata la vasca dei delfini, la fontana dei delfini che è uno dei simboli più importanti della nostra città. Questa volta non è per un guasto elettrico ma per lanciare un messaggio a tutti i concittadini. Perché ci sia consapevolezza della necessità di salvaguardare l'ambiente anche riducendo i consumi elettrici che producono CO2 che determinano inquinamento. Il nostro comune, Cava dei Tirreni, è uno dei primi a livello di Regione Campania che ha un PAES approvato anche dall'Unione Europea. E c'è uno strumento specifico per il contenimento dell'incidenza sull'inquinamento delle attività pubbliche e private della città. E nel dare attuazione a questo PAES nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si susseguiranno una serie di iniziative che sono destinate a consentire il rispetto agli impegni di Kyoto cui il nostro comune aderisce. Iniziamo per il momento con l'aderire a questo momento di condivisione per cui in tutte le città, in tutti i paesi del mondo ci sarà questo spegnimento di una luce. Una luce in meno importante soprattutto per il valore morale di questa iniziativa e per richiamare i cittadini al minor consumo energetico e alla salvaguardia dell'ambiente. Spera 2014 del 29 marzo con lo spegnimento della Fontana dei Delfini a Piazza Duomo. L'assessore Palumbo. Allora sarà spenta la Fontana dei Delfini dalle ore 20 alle 21.30 di sabato 29 marzo. Ovviamente questo è un appello che rivolgo un poco a tutti i cittadini, le casalinghe, gli uffici che se possono spegnere almeno una luce in casa è un risparmio energetico enorme e quindi un'evidente immissione nell'atmosfera di inquinamento. È una cosa molto importante, anche quest'anno l'amministrazione dà un segno tangibile del risparmio energetico e quindi spero che i cittadini ascoltino questo appello in modo tale da avere un risparmio veramente enorme. Stamattina girerò un poco per le scuole proprio per portare i manifesti e per invogliare i ragazzi a far spegnere le luci in casa, pure spegnendo anche per un'ora il computer già è una grandissima cosa.